Si chiamava Mario Rampulla e aveva 48 anni, l'operario gelese è morto a Parma in un incidente sul lavoro. Era un operario esperto, hanno subito detto ai suoi colleghi che adesso non riescono a trovare una spiegazione alla tragedia consumatasi ieri, poco dopo mezzogiorno. Non si danno pace per quanto è accaduto. Il 48enne stava manovrando un muletto ed era intento a caricare alcuni bancali. Improvvisamente il mezzo si è ribaltato. L'operario ha perso l'equilibrio ed è morto schiacciato. L'incidente si è verificato all'interporto di Fontevivo, un piccolo comune che si trova alle porte di Parma. L'interporto è un grande polo logistico dove sono presenti parecchi magazzini di stoccaggio. L'uomo da tempo era residente a Parma dove si era trasferito da alcuni anni. Aveva lasciato Gela alla ricerca di una vita migliore e soprattutto alla ricerca di un lavoro. Viveva con la madre nel centro storico di Parma e aveva un figlio di 14 anni. Era anche molto conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e professionali. Lavorava alle dipendenze di una cooperativa di facchinaggio. Sul luogo del mortale incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri che adesso stanno vagliando le cause di quanto accaduto. Sono intervenuti prima i colleghi e poi i medici del 118 che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I soccorsi si sono rivelati inutili. Quando i primi colleghi di lavoro sono accorsi per l'operaio giorese non c'era più nulla da fare. Sono rincorso gli accertamenti da parte degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno aperto un'inchiesta per individuare eventuali responsabilità. I carabinieri, coordinati dalla procura, non c'era più nulla da fare, non c'era più nulla da fare. I carabinieri, coordinati dalla procura, non c'era più nulla da fare.